A Marco Montemagno, ma che stai a fa? Guarda che il piru piru sta arrivà! Scusatemi l'intro goliardica, ma spesso quando si parla di startup, growth, le cose sono super noiose. Appena ho visto l'opportunità di fare un video risposta a Marco Montemagno non ho potuto che fare l'intro da Cerbero Podcast e approfittarne per darvi un po' di spunti di riflessione. Ho appena visto questo video di Marco, dove parla dei potenziali guadagni di OpenAI da ChatGPT, questo nuovo piano premium che è stato lanciato per l'audience americana a 20 euro al mese. Video che è ripreso quasi parola per parola da quest'articolo di Azim Azhar, che ha fatto un po' di stime. Tra l'altro, piccola nota per chi pubblica video di Marco, al momento questo articolo non è neanche linkato in descrizione. Sicuramente è menzionato nel video, però mi sembra al minimo anche metterlo come link. Cercherò di farlo anch'io, se non mi dovessi scordare a mia volta. E che cosa voglio fare? Non voglio criticare nulla di particolare nel contenuto, perché non ci sono errori grossolani, non c'è nulla di problematico. Però secondo me ci sono degli spunti interessanti, delle aggiunte da fare, per chi magari come voi segue questo canale, quindi già è un po' a conoscenza di cosa sia Product Light Growth, che conosce il freemium, sa cosa vuol dire, e è interessato a andare un po' più nel profondo. Quindi, partire proprio dall'inizio. Questo scrittore di questa newsletter è andato a vedere la percentuale di pubblico americano che ha visitato nel dicembre 2022 il sito di ChatGPT. Perché quello americano? Perché, come dicevamo prima, questo piano premium sarà disponibile solo al pubblico americano all'inizio. Piccola postilla anche per chi segue il canale, abbiamo parlato in passato del piano premium di ChatGPT, ma all'epoca sembrava che dovesse costare 42 euro al mese, invece, a quanto pare, hanno deciso di scendere un po' e ridurlo a 20. Bene, qua una piccola postilla proprio minuscola, però c'è da pensare che nel dicembre 2022 l'inizio di viralità di questo prodotto è probabilmente scattato, mettiamola così, in America principalmente, dove partono questi trend. Mi viene da pensare che nel gennaio 2023 la percentuale di americani che utilizza il prodotto sia leggermente più bassa, se non altro perché veramente la conoscenza di questo software, di questo prodotto, arriva in paesi come l'India, che sono popolati da miliardi di persone e la percentuale magari un po' scende, però questi sono veramente minuzie. Non ha accesso ai dati probabilmente di gennaio 2023 perché SimilarWeb adesso non lo fa vedere e penso che né io né lui abbiamo voglia di pagare qualche migliaio di euro l'anno, almeno questi erano i prezzi l'ultima volta che ci ho parlato, per avere accesso ai dati aggiornati. Quindi una piccola minuzia che però poi tornerà interessante e utile anche dopo. Quindi assumiamo questo 20%, poi lui ci va a dire che con questi 20 milioni di utenti americani, con l'1% di tasso di conversione, il prodotto generebbe 4 milioni al mese, poi 8, poi 20, poi 40. Partiamo dall'ovvio, cioè non stiamo considerando quello che viene chiamato in gergo tecnico churn rate, o, non lo so, tasso di abbandono forse, mettiamola così, quindi adesso sicuramente 4 milioni al mese con 1% di tasso di conversione, quindi potenzialmente un 48 milioni di ARR, annual recurring revenue, però dobbiamo considerare che ci sarà un churn rate importante per prodotti di questo tipo. Quindi questo al momento viene escluso e questo rende tutte quante le stime chiaramente un po' sovra le aspettative. Poi c'è anche da aggiungere il fatto che non tutti gli utenti convertiranno il primo mese, sarà una conversione che avverrà con il tempo, magari il 50% converterà il primo mese e poi l'altro 50% sarà distribuito in una coda molto più lunga di 11 mesi, 12 mesi, 13 mesi. Sto usando un po' di referenze, di statistiche che ho visto su tool e aziende con cui ho collaborato. Mi sembrerebbe una stima plausibile. Ma qual è il problema al cuore, secondo me, di questa analisi? Che vengono presi dei numeri veramente quasi a caso, perché, cioè, vengono date queste opzioni. Ah, se facesse l'1%, se facesse il 2%, il 5%, ci sta bene come esperimento di pensiero, come todo experiment, mi dicono che uso troppi termini in inglese. Per fortuna Marco capisce il mio problema, penso, e non sarà un problema per lui, perché a volte viene veramente difficile quando si parla in inglese di questi argomenti tutti i giorni poi tradurre in italiano. Ma se poi si prendono un po' di esempi, no? Si dice che, per esempio, su il report di OpenView il tasso di conversione dei freemium, secondo il loro report, è intorno al 6%, quello di Shopify il 46%, e già qua capiamo che siamo su due livelli completamente diversi, perché i report di OpenView si concentrano principalmente su aziende B2B, Slack, Datadog, Dropbox, quindi un altro livello rispetto a Spotify. Però il gancio di Spotify mi dà un ottimo spunto di riflessione su un altro aspetto, cioè che cos'è che offre la versione premium, qual è l'offerta, questa è la cosa principale quando vendiamo un prodotto, ok? Si può parlare di come ottimizziamo il funnel, come ottimizziamo le comunicazioni, inviamo email, quanti touchpoint facciamo, su quanti canali questi touchpoint. Questi sono tutti dettagli importanti che possono fare la differenza di 1,05, magari anche di un punto percentuale, però al cuore, la ciccia di quello che fa la differenza è l'offerta che noi diamo, quanto dà in più il nostro prodotto. Il problema principale che io vedo nell'offerta di ChatGPT Premium è che veramente il valore aggiunto è minimo, il valore aggiunto è una disponibilità più ampia, diciamo una disponibilità maggiore dei server, una risposta più veloce, che mi sembra veramente poca roba, e quest'idea di accesso a feature future in anticipo, che anche qua diciamo è super vago, non vuol dire quasi nulla. Quindi qual è la riflessione che vorrei fare? Spendiamo un po' di tempo a pensare, ok, quanti soldi farebbe se dovesse convertire in questo modo? Però poi pensiamo anche, ma ok, il tasso medio di conversione è 6%, quali sono i tool che come funzionalità premium ti dicono, guarda, funzioniamo sempre, invece di funzionare solo il 20% delle volte, il nostro sito web è leggermente più veloce nel darti i risultati, e poi quando rilasceremo feature nuove avrai accesso subito. Penso il tasso sia molto più basso. In realtà, paradossalmente, il fatto che ChatGPT non stia funzionando molto spesso, i server siano quasi sempre down, sta diventando un po' una feature per vendere le funzionalità premium, quindi sta entrando in un paradosso quasi per cui più il loro servizio è giù, più c'è la possibilità che le persone upgradino, però diciamo che legare il motivo principale per cui le persone dovrebbero voler fare l'upgrade a un qualcosa che invece, in maniera completamente controintuitiva, ti blocca l'utilizzo della funzione free del prodotto è veramente un po' strano. Non penso che l'obiettivo di OpenAI sia questo, anche perché poi completamente distruggi la crescita che hai avuto fino a questo momento. Cioè, se il prodotto non è mai disponibile in versione gratuita, da 100 milioni rimane a 100 milioni, no? Chiaramente invece loro vogliono crescere questa base, adesso hanno problemi per i costi dei server, per tantissimi altri motivi, e magari vogliono prendersi il tempo di capire quali sono i tassi di conversione, come possono convertire le persone, quanto possono far pagare, prima di veramente aprire i cancelli completamente. Però, ecco, c'è da riflettere secondo me molto su questo punto, per questo faccio questo video, perché mi piacerebbe discutere anche con voi nei commenti, magari discuterne con l'autore di questo articolo, un giorno proveremo a parlarci, perché sì, ci sta a pensare un po' a quanto farebbero se, però mi piacerebbe anche capire cosa è più probabile. Poi c'è anche da dire che questo è il tipico video che uno guarda indietro e dice ma sono veramente un coglione. Perché? Perché è chiaro che ChatGPT abbia sbalordito chiunque a livello di numeri, a livello di viralità, a livello di... volendo anche di potenzialità, perché nonostante moltissimi già conoscessero GPT-3 come modello di linguaggio, non avevano visto la potenzialità proprio virale, la potenzialità di utilizzo per tutti di un prodotto che viene messo... dello stesso modello di linguaggio che viene messo in forma di chatbot. Quindi magari veramente sorprenderà e avrà un tasso di conversione del 10% e sotto questo video tra due mesi ci saranno quelli che mi dicono che sono un coglione. E devo ammettere che io stesso non penso che sia impossibile, però penso che sia necessario pensare meglio o strutturare meglio l'offerta che ChatGPT Premium offrirà per arrivare a quel livello lì. Quindi torniamo al punto del... magari un giorno queste feature premium a cui verrà dato accesso anticipato saranno talmente fighe da giustificare l'acquisto di un piano da 20 euro al mese che comunque non è poco, specie per un prodotto che è un B2B ma è anche B2C. Anzi il prodotto B2B in realtà uscirà tra poco, nel senso che stanno già per rilasciare le API di ChatGPT e esistono già le API che si connettono al modello di linguaggio principale di GPT3 che fondamentalmente fanno la stessa cosa però non in forma di chatbot. Quindi poi questo piano da 20 euro al mese rimane per i prosumer e per i consumer, 20 euro al mese è un prezzo abbastanza alto, cioè stiamo parlando di quasi più di qualsiasi altro prodotto abbonamento mensile di grande diffusione. Netflix è stata super criticata per il costo del proprio abbonamento e adesso è arrivato forse a 16 dollari al mese un prodotto che viene condiviso tra spesso 4 persone a prescindere dai casini che stanno facendo adesso con condivisione di password e non. Spotify, anche lì ci sono i piani famiglia, magari le persone in media pagano dai 2 ai 5 euro al mese, per Spotify 20, entriamo veramente in un'altra sfera per quanto riguarda le percezioni di costo dei consumatori. Un'ultima cosa che vorrei aggiungere è poi sul discorso espansione globale, perché poi si dice, assumiamo che queste stesse tasse di conversione possano essere applicate al resto del mondo che per adesso non avrà accesso a questo chat GPT Premium, beh, allora le revenue saranno 60 milioni al mese con l'1%, 120 milioni al mese con il 2%, eccetera, eccetera. Anche qui, interessante come tot experiment, però l'America è da sempre il paese che spende di più in qualsiasi cosa, quindi magari pochissime eccezioni di paesi minuscoli, però è sempre il mercato più importante per la maggior parte delle scale up globali e quindi assumere che ci sia lo stesso tasso di conversione negli Stati Uniti e in Burundi e in India e in Italia non ha molto senso. Quindi in generale, ecco, mi interessa solo fare queste piccole precisazioni perché sarebbe veramente, veramente figo avere un articolo tipo questo che però va più nel dettaglio, cioè come è il business model di chat GPT assumendo un churn rate normale per prodotti di questo tipo? Qual è il tasso di conversione, il tasso di upgrade in India rispetto che negli Stati Uniti? Questo come impatta la visione globale del prodotto? Però, ecco, chiaramente so che sto chiedendo di fare un lavoro enorme, non è una richiesta, è più che altro una speranza. L'ultimo spunto di riflessione è che i benchmark di OpenView sono fatti su una serie di aziende che hanno un numero di utenti molto diverso in media rispetto a quello di chat GPT. Stiamo parlando di aziende molto più piccole, ci sono alcune eccezioni che ho citato prima, Datadog, Dropbox, però chiaramente più tu ingrandisci la tua base di utenti più è facile che il tasso di conversione si abbassi. Perché? Perché vai a prendere tutta una serie di persone che magari sono interessate al prodotto perché è famoso, perché sta diventando virale, ma che non sono in target per spendere 20 euro al mese su un prodotto di questo tipo. O perché non gli serve, o perché è usato a livello aziendale dalla loro azienda, o perché non hanno i soldi per pagarlo. Quindi, soprattutto quando si parla di prodotti che servono una nicchia, una nicchia privilegiata, tra virgolette, se vogliamo vederla da un punto di vista quasi demografico, nel senso persone che hanno lavori da ufficio, persone che possono permettersi di spendere, da ufficio o creativi, che possono permettere di spendere 20 euro al mese, che conoscono queste tecnologie, quindi magari ne capiscono anche i potenziali. Stiamo parlando di una sezione ristretta del globo. E quindi più tu ingrandisci la tua audience, più è facile che arrivi a un punto in cui ogni persona aggiunta, molto probabilmente, sarà qualcuno che è al di fuori della bolla di potenziali utenti in target. Questo non vuol dire che non conviene crescere, assolutamente no, perché continuerai ad avere un tasso di conversione, che però magari si abbassa leggermente, più tu ingrandisci questo cerchio. Quindi, tutto questo per dire fondamentalmente che è un articolo interessante, spunti di riflessioni carini, volevo aggiungere i miei nella discussione. Penso che possa essere ancora più interessante discuterne in questo modo e provare a capire se OpenAI riuscirà mai a ripagare quei 10 miliardi di investimento che ha fatto Microsoft in loro, visto che fa parte del loro accordo, in quanto tempo, anche visto e considerato che ad oggi spendono qualche milioncino al mese solamente per gestire tutte quante le richieste che ricevono. Scusa Marco se ho usato il tuo nome e la tua immagine, ma veramente non mi capita mai di poter fare video risposta, devo farlo più spesso, e quindi per oggi sei capitato tu, ma spero, insomma, se c'è qualcuno del suo team che sta vedendo questo video, nessun rancore, mettete l'articolo linkato in descrizione. E niente, io come al solito saluto voi che mi avete seguito fino alla fine, ci vediamo con un video più strutturato tra poco, ve lo prometto. Ciao ciao!